Fuori per un link o escluso attraverso un link? Per il sindaco di Brindisi è stato un disguido. Fuori discussione sia nella volontà da parte di alcuni di escludere, né la volontà da parte dell'amministrazione di non partecipare. Riccardo Rossi ha spiegato perché non è riuscito a partecipare alla conferenza di servizi da remoto su ACT Blade. Convocazione è inviata venerdì 25 novembre alle 19, per lunedì 28 alle 17. Il link per il collegamento sarebbe arrivato in seguito. Sul documento però non ci sono contatti, ma dal comune riescono comunque a raggiungere telefonicamente il ministero per chiedere di inviare il link al sindaco perché alle 14 l'ufficio protocollo è chiuso. Rossi riceve il link, prova a connettersi, tutto ok, pensa, invece no, perché alle 17 clicca e aspetta. 5, 10, 30 minuti della riunione neanche l'ombra, salvo poi scoprire che era già terminata e che si era tenuta su altra piattaforma alla quale accedere attraverso un altro link inviato in seconda battuta ma all'ufficio protocollo ormai chiuso. Perché il secondo link non è stato inviato a Rossi come il primo? Non lo sapremo mai. Nel frattempo il sindaco precisa A me quello che dispiace è che invece intorno a questa mancanza si sia costruita una strumentalizzazione politica sulla mancata volontà da parte del comune di partecipare a questo incontro, cosa assolutamente falsa.